Siamo al civico 34 di via Diaz, Lecce. Questa porticina conduce direttamente allo sportello della Monteco, la dita che gestisce il servizio di nettezza urbana in città. Un giorno sì e uno no è meta preferita di numerosi utenti che si recano qui per ritirare le pattumelle dei rifiuti e per sbrigare altre pratiche annesse e connesse. Risultato? Lunghi tempi d'attesa e file interminabili da parte, soprattutto di persone anziane, costrette a stare in piedi sul marciapiede prima di poter accedere all'interno. Inevitabili le vibranti proteste degli utenti che in più di un'occasione si sono rivolti allo sportello Dillo a Telerama per segnalare disagi e disservizi. Ha una banca per sedersi, c'è gente anziana, qua ho visto prima c'è una signora che mi faceva bene, in piedi, ore. Per fortuna in questi giorni il tempo è clemente, ma è facile immaginare allora quando le condizioni meteo saranno avverse, quali e quanti disagi potranno subire gli utenti. I cittadini meritano più rispetto, in particolare quelli più fragili. Nel frattempo armatevi di tanta pazienza e votatevi a qualche santo, a volte i miracoli accadono.